12 milioni per ripulire 57 tra torrenti e fiume in Sicilia. A renderlo noto è stato il governatore della regione siciliana Nello Musumeci. Ai 6 milioni previsti con la legge di stabilità, infatti, sono stati aggiunti altri 12 di euro con delibera della giunta regionale. In particolare, in provincia di Ragusa, oltre ai lavori già avviati all'inizio di ottobre, si procederà anche sui fiumi Ippari, 78 mila euro, e Erminio, incontrata a Margi nel comune di Giarratana per un totale di 260 mila euro. Nel Trapanese, invece, ruspe previste in azione sul Dedia, a Monte della Diga Trinità. In provincia di Siracusa, poi, i cantieri verranno aperti, tra gli altri nei comuni di Sortino, sul fiume Anapo, all'altezza dell'attraversamento della strada provinciale 54, con una somma di 50 mila euro, ma anche lavori sul canale Galermi, nell'incile dell'Anapo all'interno della riserva naturale. Numerose opere anche in provincia di Catania e nel Messinese. La regione siciliana è a fianco dei comuni, abbiamo consapevolezza della vulnerabilità idraulica del territorio, soprattutto in quelle zone dell'isola, nelle quali, nel corso degli anni, la cementificazione selvaggia ha prodotto processi, in alcuni casi, purtroppo irreversibili, ha dichiarato Nello Musumeci. Dove è possibile, dobbiamo intervenire subito con la manutenzione e lo stiamo facendo. La priorità, prosegue il governatore, è la salvaguardia dell'incunumità pubblica. Nelle zone dove non si può fare nulla, è opportuno che tutti i cittadini siano messi a conoscenza della pericolosità.